Quanto è bello doversi rimettere qui davanti la scrivania per fare le pagelle di una sconfitta della Roma, vi giuro che non ne avete idea, tant'è che mi ero ripromesso di farle questa mattina, invece sono le 2.50 e sto registrando in questo momento, perché fino a che non mi sono messo qui a registrare mi rodeva ancora il cosiddetto, non voglio essere volgare come ieri perché un pochino di rabbia è stata stemperata, fatto sta che io ogni volta che la Roma non riesce a ottenere un risultato importante, soprattutto all'inizio del campionato, reagisco in questo modo, quindi cercherò comunque di essere calmo, di non arrabbiarmi anche se di cose negative ce n'è di cui parlare, però cerchiamo di essere lucidi perché volenti o nolenti siamo ancora proprio appunto all'inizio, quindi ci sarà tempo eventualmente per dare sentenze definitive. Detto ciò, prima di affrontare nello specifico le pagelle di Verona-Roma 2 a 1, vi chiedo come sempre di lasciare un mi piace se volete supportarmi, un'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto e se volete seguirmi su tutti gli altri miei profili social vi lascio i link come sempre qua sotto in descrizione. Detto questo allora, parto per ordine, come sempre dal portiere, ma se avessi fatto le pagelle in ordine da quello che più mi ha fatto arrabbiare a quello più sufficiente, sarei comunque partito da lui Patricio, al quale do un 4,5. Io, umanamente, non ho nulla contro di lui, però come ho detto anche ieri, è inammissibile che io debba provare paura ogni volta che gli avversari non creano opportunità clamorose, tirano verso lo specchio. Io non mi sentivo così in difficoltà con nessun altro portiere, invece il Rui Patricio degli ultimi due anni, dalla finale di conferenza in poi, mi fa pensare che basti che una persona tira verso la porta e subito diventa gol. Una volta può capitare, due volte pure, tre anche, può succedere, magari un giocatore si inventa il tiro della domenica, ci può fare ben poco, ma quando la statistica diventa che la Roma, tra il campionato scorso e questo, in 50 partite prende 60 tiri e segnano 61 gol, vuol dire che c'è qualcosa che non va. E questa volta, rispetto alla partita con la Selenitana, ha anche delle colpe lui, perché se sui gol di Candreva c'è una colpa della difesa in un caso e nell'altro, diciamo, c'è più una genialata del giocatore, qua sul primo gol, per quanto poteva essere comunque un tiro imprevedibile, non puoi ribatterla in quel modo e darla in mano, anzi, sui piedi del giocatore avversario. Non è possibile una cosa del genere. A una certa veramente uno, neanche se ha rabbia più, dice, ok, abbiamo questo, un porta, ma allora io mi domando e mi chiedo, svilar può fare tanto peggio? Perché fare peggio di un giocatore che in quattro tiri prende quattro gol è impossibile. Peggio non fai, al massimo pareggi la statistica. Quindi io voglio capire, quanti bonus potrà avere lui Patricio prima che l'allenatore capisca che magari è meglio dare una chance a svilar, e io adesso non vi dico che svilar sia la soluzione a tutti i mali, per carità di Dio, però provare per provare, tanto vale che ne metti uno in campo giovane, almeno magari lo rivitalizzi anche, se fa una buona stagione, lo puoi rivendere e farci qualche milioncino, visto che l'hai presa parametro zero. Ma un lui Patricio titolare in questo momento è una cosa che non si può vedere, e raggiunto a una certa età anche i portieri più grandi carano drasticamente. O ti chiami Gigi Buffon che fino a 45 anni ancora fa parate fino a qualche mese fa quando si è ritirato, oppure se sei un portiere anche di buon livello e va a finire che non fai più niente. Guardate l'Inter che faceva con Andanovic, aveva una squadra della madonna, ma ogni volta che gli veniva fatto un tiro verso lo specchio, veniva fatta la parata laser di Andanovic, che si metteva a guardare il tiro, e la palla finiva in porta. Quindi ecco, io capisco che la Roma aveva altri impegni, però mi auguro che, adesso c'è la questione Lukaku, per carità l'attenzione è tutta su quella, e non penso proprio che verranno fatti altri acquisti oltre di lui, ma se ci fosse un'opportunità di interessarsi a un portiere che magari dia un minimo di sicurezza in più, proviamoci quantomeno. Ripeto, so che non era l'unica cosa che bisognava fare, però è un problema che purtroppo sta diventando troppo troppo pesante. Ho parlato soprattutto di lui, non volevo farlo, però permettetemi di sfogarmi un po', se non lo faccio qui con i video, con chi lo posso fare. Mancini, 5 e mezzo, non è stato disastroso come nella prima giornata, non mi ha dato la sicurezza delle partite migliori, però del reparto difensivo sicuramente è stato il migliore, per così dire. Comunque non ha perso palloni troppo sanguinosi, di testa non si è fatto anticipare quasi mai, quindi nel male si può dire che è stato quello meno peggiore rispetto agli altri. Non so neanche se si può dire, però avete capito il senso del mio discorso. Smalling, 5. Adesso io voglio capire se quello che abbiamo visto finora è il cugino scarso o è il vero Smalling, perché non posso accettare che un giocatore come lui, con la sua esperienza, in pochi mesi, dal rinnovo in poi, sia diventato uno qualunque o uno qualsiasi, anzi uno dannoso, perché la Roma ancora adesso deve puntare su di lui. Io vi disse al momento del rinnovo che bisognava puntarci, ma non farlo ritornare ad essere il perno, perché l'età avanza, quindi bisognava dargli la giusta importanza. Ora come ora, però, uno Smalling in difficoltà è un danno per tutto il reparto difensivo, perché la finta su cui abbocca in occasione del gol del 2-0 è troppo facile, cioè troppo assurda, nel senso fa una bella giocata lui, così come la fa Candreva nel gol contro il Roma Salernitana. Però da uno come Smalling non ti aspetti che alla prima finta bocchi come nulla fosse e si fa subire, diciamo, il gol dell'1-1 in un caso e del 2-0 nell'altro. Non sarà solo colpa sua, però uno Smalling in difficoltà viene notato anche dai compagni di squadra. L'anno scorso perché c'era una grande differenza quando lui era in campo e quando no? Perché, stando lì in mezzo alla difesa, guida i compagni di squadra e li aiuta anche a fare meglio. Quando lui non c'è, è chiaro che tutto il reparto difensivo va in difficoltà, ma le parleremo nello specifico quando nel secondo video vi farò un'analisi più specifica di questa partita. A meno che stasera Lukaku non dovesse atterrare a Ciampino, in quel caso chiaramente si prenderebbe lui, diciamo, l'attenzione di questa giornata. Llorente 5, non voglio fare un video troppo lungo, però su Smalling e Rui Patricio c'erano delle cose che bisognava sottolineare. Llorente 5 perché fa una partita, anzi un primo tempo, abbastanza buono, però in occasione del gol del 2-0 non capisco dove era finito, perché la palla comunque viaggia in quella zona di campo e c'era solo Smalling che ha provato a intercettare male un gonge, che ha segnato un gonge, come si chiama, vabbè. Comunque, lì non capisco perché se n'è andato a praterie, nel senso c'è, io ho sempre pensato che attualmente fosse il giocatore più in forma del reparto offensivo, intanto la luce qua va un po' a casaccio, penso che la stacco direttamente, tanto penso che si vede comunque bene. e quindi ecco, non mi è piaciuto il fatto che si sia perso completamente in quel momento e abbia lasciato praterie in occasione del gol del 2-0. Christensen 5,5, anche lui gioca una sola metà di gara, però non sono d'accordo con chi la considera gravemente insufficiente, perché non fa niente di particolarmente eclatante. Magari accendo la luce, ok, si dovrebbe vedere un pochino meglio. Però io ho visto comunque fare qualche discesa in più sulla fascia, io ho visto fare un dribbling interessante, un cross in aria che purtroppo non è diventato gol. Diciamo che si è visto un piccolo miglioramento che non basta per fargli raggiungere la sufficienza, ma neanche per fargli prendere un 5 pieno o anche peggio. Quindi speriamo che questi piccoli sprazi possano diventare più costanti col passare delle giornate. È un giocatore che, lo sapevamo, doveva ambientarsi al campionato italiano, ora come ora non sta aggiungendo nulla in più rispetto ai Carstorpe Selic dello scorso anno, però che vi devo dire? Ormai abbiamo puntato su di lui, quindi cerchiamo di avere pazienza e vedere se effettivamente potrà rivelarsi un giocatore utile o in generale un acquisto azzeccato, che finora non sembra, però cerchiamo di essere cauti. Cristante 6. Ha alternato situazioni positive ad altre decisamente meno, come ad esempio in occasione di alcuni falli nella ripresa in cui si è visto che aveva meno velocità rispetto ai diretti avversari, però è l'unico giocatore che in questa Roma verticalizza con costanza, nonostante in questa partita non fosse lui l'effettiva mezzala, non fosse lui il mediano ma una mezzala, un po' il ruolo che aveva diversi anni fa. Complessivamente quindi, ve l'ho detto, non ha fatto una partita eccezionale, ma non capisco chi la considera veramente insufficiente e tutto sommato tra lanci provati, tra palloni gestiti e tutto, alla sufficienza, seppur non importante, seppur non piena, alla fine per me ci arriva. Non ci arriva invece Paredes, al quale do un 5 pieno. L'emblema della sua prestazione è un'azione in cui riesce anche a destreggiarsi bene, arriva al limite dell'aria, non riesce a mettersi la palla sul destro e prova una trivela senza senso con il destro tutta sbilenca che non mi ricordo se finisce fuori o in braccio al portiere. Io capisco che ognuno ha i piedi preferiti, però in quel caso o provi col sinistro di piatto oppure la passi a qualcun altro se vedi che sei in difficoltà. Io, questa è una cosa che recrimino, comunque, che mi fa arrabbiare anche per quanto riguarda Pellegrini. Adesso ci arriveremo, perché si vuole sempre tentare la giocata di fino senza essere più semplici, diciamo. E adesso, appunto, arriviamo a Pellegrini, al quale do comunque un 6. Gli do la sufficienza perché nel primo tempo fa un'azione clamorosa che se avesse segnato avrebbe pareggiato se non superato il tacco fatto due anni fa sempre in questo campo, salta tutta la difesa, si porta la palla sul destro e la mette fuori. Nella ripresa, occasione su punizione, un tiro quasi identico a quello visto nel derby di due anni fa che tra l'altro è l'ultima punizione segnata proprio da Pellegrini e la palla sbatte sulla traversa, sulla schiena del portiere e finisce fuori. Quando devi capire che la giornata ti deve andare male, lo capisci anche da questi episodi. Poi, ripeto, non è un attenuante, non è una scusa, però quando tu capisci che non devi avere fortuna devi solamente fare così, spalluccio e dire vabbè, tanto ormai neanche mi ha incazzo più ieri, così ho detto. Dopo la punizione ho detto, vabbè, tanto ormai, che devo dire? Che devo fare? Se ci arrabbiamo che cambia? Lasciamo perdere. Però, a parte quei due episodi, l'ho visto in alcuni casi un po' troppo lezioso e poco utile, diciamo, alla manovra di gioco offensiva della Roma. Qua chiaramente molti stanno ad appesantirgli, diciamo, la prestazione perché è il capitano, lo sapete come funziona, ti becchi le critiche, ti becchi gli insulti perché devi rappresentare Roma nella maniera migliore, eccetera, eccetera. Lui finora magari non l'ha fatto al 100%, però, ecco, io guardando un po' le occasioni create non riesco ad andare sotto la sufficienza, sebbene non sia stata certa una prestazione di livello. Ad esempio, tornando al discorso di prima, ho visto una discesa importante di Spinazzola subito dopo il 2-1, quindi poteva essere anche una botta importante alla partita. Palla per Pellegrini che non ci pensa neanche, tira subito al volo col sinistro mezzo scordinato e la palla che esce fuori. C'erano giocatori in mezzo, c'era il tempo anche per poterla controllare e provare con il destro. Perché non giochiamo più semplice? Io non voglio insegnare niente a nessuno, per carità, perché se mi metto io lì in campo neanche riesco a stopparlo il pallone che lui tira vicino al palo. Però, glielo dico proprio perché secondo me sembra che in alcuni casi voglia fare la giocata più importante, la giocata più spettacolare, invece a volte basta anche essere un po' più semplici senza dare troppo nell'occhio, ma magari facendo la cosa giusta. Zaleski 5,5. Mi ha spaventato parecchio nel secondo tempo quando ha visto tutti i giocatori mettersi sopra di lui dopo quel contrasto in mezzo al campo. Per fortuna non è sembrato essere nulla di grave. Vediamo un po' se recupererà per il Milan. Ma anche lui alterna cose positive, come ad esempio il tiro nel primo tempo che per poco non si trasforma in gol per un salvataggio miracoloso di un giocatore che doveva essere proprio lì in quel momento. Però ecco, ha fatto le veci del portiere e l'ha fatto anche bene. Però ogni tanto salta il diretto avversario, ogni tanto non ci riesce. Sul primo gol non capisco dove era sparito, cioè ad esempio lì c'era una prateria ancora una volta su quella zona di campo. Ma Zaleski che stava facendo all'inizio della partita? Dove puoi sparire? Se tu devi stare lì a sinistra, ci devi stare, ma devi fare anche la fase difensiva oltre che quella offensiva. Perché a me sta bene che tu attacchi, fai cross, sei intraprendente e tutto. Però se dietro non ci sei e non esisti, diventa un problema. E l'abbiamo visto anche l'anno scorso quando era sulla destra, sulla sinistra un pochino meno. Ma sulla destra ogni volta che un diretto avversario attaccava, trovava veramente campo libero. E questo è un problema. È un problema perché se tu giochi con due esterni che devono farsi tutta la fascia su e giù, non possono essere mediocre, devono essere di livello. E a me sta bene che tu rinforzi l'attacco che probabilmente prendi Lukaku, che è in grandissimo colpo, dovrà mettersi in forma, ma di base è un giocatore di livello con esperienza internazionale. Mi va bene che tu hai di bala, sebbene mi stia cominciando un po' a infastidire e adesso ci arriviamo. Mi va bene prendere indica dietro e tutto quanto. Però le fasce sono importanti, sono importanti soprattutto se vuoi puntare specificatamente su di loro. Quindi ecco, bisogna sperare che Christensen in qualche modo si riesca a valorizzare di più e che gli altri riescano a fare un pochino meglio. Belotti 6. Non posso veramente non dargli la sufficienza perché ancora una volta, sebbene a livello offensivo non sia visto benissimo, o meglio come la partita con la Salernitana, però influisce sul gol del 2-1 perché è l'unico a credere su quel pallone e ad anticipare il portiere. Si prende un sacco di legnate a ogni minuto dagli avversari anche parecchio fisici del Verona e quindi ecco, lui il suo lavoro l'ha fatto e il problema non è tanto Belotti quanto più tutto quello che è ruotato intorno a lui. E a Dybala io gli do un 5 pieno. A parte uno sprazzo di Dybala con un'azione sulla fascia abbastanza pericolosa, per il resto è stato completamente avulso dal gioco. E io sono sincero, gli voglio bene, è una bravissima persona, un ottimo giocatore, però è inammissibile che ogni volta, dopo un'ora all'incirca di gioco, devo sempre vederlo lì che zoppica, che si fa un pochino male, sempre con questo adduttore della minchia, io capisco che non è colpa sua, per carità, però a che serve avere un giocatore forte se ogni volta devi stare col fiato sospeso perché al minimo contatto può farsi male, può uscire, può lasciare la squadra e costringerla a fare un altro cambio. A che mi serve? Cioè io non gliene sto facendo una colpa e non voglio già essere disfattista, per l'amor di Dio, però veramente, cioè io vorrei che riuscisse a trovare un po' più di continuità sotto questo punto di vista, che magari qualche infortunio ogni tanto ci può stare, non sono robot, giocano spesso, per assolutamente, però neanche che a ogni partita devo incrociare le dita e dire speriamo che non lo sfiorano perché se lo sfiorano ho capace che sente di nuovo il dolorino e deve uscire. Capite un po' il senso del mio discorso, quindi spero di non dover ripetere troppo queste parole, anche se vediamo un po'. Sostituzioni molto velocemente, Awar 6,5, entra a inizio di presa al posto di Paredes, segna il gol del 2-1 e si mangia anche un paio di opportunità. Non erano gol fatti, per carità, però poteva essere un po' più lucido, un po' più rapido e magari tirare subito oppure passarla più velocemente, invece nonostante si sia ritrovato la palla in buone posizioni si è fatto subito anticipare e non è riuscito a creare di più. Però il suo ingresso sicuramente ha galvanizzato la Roma e questo è un dato di fatto. El Sharawi entra dal 46esimo per Iorente, 6 ma proprio striminzito perché comunque si ritrova a fare la fascia sinistra con Spinazzola che parte un pochino più arretrato e tutto sommato alla fine se la cavicchia, cioè crea qualche pericolo, si fa vedere, a volte non viene servito quando dovrebbe, a volte è lui a non servire quando avrebbe dovuto farlo, però per quello che ho potuto vedere diciamo che ci può stare. È più vicino a un 5,5 che a un 6,5 però la sufficienza gliela voglio dare. Stesso voto anche per Spinazzola che entra dal 46esimo per Christensen, io so che ormai tutti pensiamo che sia finito, probabilmente è anche così. Però ieri che gli si può dire? Cioè comunque ha fatto alcuni cross interessanti, ha dato un pallone interessante a Pellegrini subito dopo il gol del 2-1, l'ho visto diciamo più propenso a dare una mano rispetto alla prima giornata, quindi giudicarlo per quello che possiamo pensare ora come ora ci sta, però secondo me non è stato così disastroso. Karlsdorp al posto di Zaleski al 51esimo, 5,5, si mette sulla fascia ma crea veramente poco per poter raggiungere la sufficienza, e in ultimo Solbaken che entra dal 68esimo per Dybala, 5 pieno. Io mi auguro di cuore che si riesca a trovare una sistemazione perché nella Roma mi dispiace per lui ma non c'entra nulla, ma veramente zero. Anche in prestito secco, quello che sia, però è inutile anche solo avercelo, perché se deve entrare, mettersi lì sulla fascia inspiegabilmente, non provare un dribbling, non provare un tiro, sbagliare i cross, a che mi serve? Tanto male che non faccio il cambio, che rimango con Dybala a zoppo in campo, piuttosto che mettere Solbaken che non ti contribuisce in nessun modo. E io ripeto, non ce l'ho con lui, però se devo vederlo in campo per non fare nulla, tanto vale che o metti un giocatore in un altro ruolo, cambi un pochino modulo, o lasci stare, veramente. Passiamo al Verona, migliore in campo per me Duda, al quale ho dato un 7 pieno, perché segna da approfittatore il gol dell'1-0 e fa il lancio in avanti per il gol di Ingonge del 2-0. È peggiore per modo di dire Davidovic, gli do il 6, perché guardando un pochino la formazione non c'è nessuno che per me ha giocato così male, non ti può sbagliare in occasione del gol, però fa comunque delle buone parate, quindi ci può stare. Voto di squadra 6,5, perché per me hanno fatto una bella partita, assolutamente, però hanno sfruttato soprattutto degli errori grossolani della Roma, sia dal punto di vista del portiere che dell'intera fase difensiva in occasione del 2-0. Nella ripresa hanno pensato solamente a contenere, ma visto che alla fine hanno vinto, direi che l'hanno fatto anche abbastanza bene. In ultimo voto all'arbitro Doveri, 5,5, non fa errori secondo me gravi, però ogni tanto fa qualche errorino qui, qualche errorino là, un giallo non dato, un giallo dato quando non doveva darlo. Non mi ha convinto appieno, però da qui a dire che ha fatto male, o qua è influito sul risultato, assolutamente no, secondo me. Dà un rigore alla Roma che non c'è, infatti il VAR glielo toglie subito, in diretta sembrava anche, però è giusto che alla fine sia stato annullato, e per il resto non ci sono episodi così gravi da potergli dare un'insufficienza più grave. Quindi questo ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ci vediamo più tardi per il secondo video di giornata, che sarà o l'analisi della partita o l'eventuale ufficialità dell'arrivo di Lukaku. Un saluto a tutti, sempre comunque Forza Roma, mi raccomando scrivetemi nei commenti se siete d'accordo con i miei voti e soprattutto quale avreste dato voi al posto mio. Un saluto a tutti e sempre Forza Roma. Ciao ragazzi!